giornata di roghe in tutta la sicilia situazione in miglioramento dei focolai attivi in varie parti dell'isola canadera ed elicotteri in volo già dall'alba vasto incendio nella zona industriale di brancaccio a palermo sono andati a fuoco un magazzino e un camper fiamme anche lungo la ss 113 a campo felice di roccella a palermo a piazza vittorio veneto tornano a manifestare gli ex percettori del reddito e cittadinanza promette un posto di lavoro per il nipote anziana consegna 36 mila euro a una donna di marineo denunciata alla guardia di finanza di palermo per truffa e autoriciclaggio a casa artigiani palermo consegnati gli attestati di riconoscimento artigiani del futuro a due aziende palermitane ben ritrovati alla prima edizione di media news di lunedì 28 agosto ieri giornata di roghi in tutta la sicilia complici le alte temperature il vento di scirocco delle ultime ore almeno 36 gli incendi registrati forestali e pompieri al lavoro su decine di fronti ancora una domenica dominata dalle alte temperature che hanno dato vita a diversi incendi in sicilia ben 36 4 nell'agrigentino a cianciana incontrada bissana calamonaci incontrada canalicchio a sciacca contrada san caloggio risabella e alessandria della rocca incontrada gabibbi nel nisseno a mazzarino incontrada sancono sottano anniscemi lungo la strada provinciale 11 e a santa caterina villarmosa incontrada muleri nella catanese a caltagirone incontrada croce a mascali a piedi monte tenneo incontrada zappello di campagna e incontrada vena a castiglione di sicilia incontrada marchesa incontrada passo siletta e a lingua glossa incontrada pannella nell'ennese roghi a pietra persia incontrada masseria minnitti a barra franca incontrada galati nel palermitano fiamma contessa centellina incontrada garcia a moreale nella zona del santuario taglia via e nel lago poma a santa cristina gela incontrada pianetto nelle trapanese a santa ninfa incontrada finestrelle ad alcamo incontrada monte bonifato a buseto palizzolo a baglio portelli a castellammare del golfo incontrada sarmucci a custonaci incontrada frassino a erice incontrada baglio a marsale incontrada filippo a poggio reale a salemi incontrada monte polizzo infine nella messinese a castellumberto incontrada bivio cola marco e a librizi incontrada san sebastiano vigili del fuoco e corpo forestale di nuove nazioni anche a giacalone nel palermitano per spegnere le fiamme piccate alla macchia mediterranea e cumuli di immondizia sono intervenute alcune squadre per limitare i danni e proteggere le aziende agricole in alcune zone della sicilia ieri la protezione civile ha lanciato l'allerta rossa soprattutto nella parte settentrionale dell'isola dalla trapanese al palermitano e alla messinese allerta rossa anche nel siracusano nelle altre province l'allerta è rimasta arancione da oggi secondo le previsioni meteo le temperature dovrebbero diminuire e continuiamo con gli incendi e vediamo la situazione in sicilia lo stato dei roghi è in miglioramento anche se ci sono ancora dei focolai attivi in varie parti dell'isola specialmente nelle province di trapani palermo e messina canadere ed elicotteri in volo già dall'alba sono di nuovo in volo alle prime luci dell'alba sei canadere e cinque elicotteri antincendio che da ieri sono impegnati nel contrasto agli oltre 50 incendi divampati in diverse località il presidente della regione renato schifani è rimasto in contatto tutta la notte con il comandante il corpo forestale beppe battaglia e con il capo della protezione civile regionale salvo cocina la situazione sottolinea il governatore è comunque in miglioramento su tutti i fronti grazie soprattutto al massiccio intervento di uomini e mezzi che stanno operando perché gli incendi non prendono nuovo vigore restano criticità invece nel messinese dove sono stati inviati quattro canadei per fortuna al momento non si segnalano danni alle persone attualmente sono in servizio due canadere a salemi nel trapanese due a messina sul torrente catarrati e due a montagna reale nella zona terrenica del messinese gli elicotteri sono impegnati nel paermitano nel trapanese nel messinese intanto è tornato operativo dalle 19.30 di ieri sera all'aeroporto di trapanibirgi dove la situazione è regolare i voli hanno ripreso a partire a terra sembrerebbe che non ci siano danni le piste e all'attrezzatura ai bordi impianti vasto incendio nella zona industriale di brancaccio a palermo sono andati a fuoco un magazzino adibito a deposito di carne e un camper a campo felice di roccella nei pressi della statale 113 è scoppiato un vasto incendio di sterpaie vasto incendio nella zona industriale di brancaccio a palermo sono andati a fuoco un magazzino adibito al deposito di carne e un camper in zona è presente un deposito di carburante che grazie al massiccio intervento dei vigili del fuoco è stato messo in sicurezza a brancaccio il comando provinciale dei vigili del fuoco ha inviato dieci mezzi con 15 uomini che hanno lavorato fino a tardanotte in provincia a campo felice di roccella sempre in una zona industriale nei pressi della strada statale 113 è scoppiato un vasto incendio di sterpaie le fiamme hanno distrutto un magazzino dove era stoccata merce di origine cinese la linea ferrata che corre lungo la strada statale 113 è stata interessata da momentanei interruzioni un altro incendio sterpaie divampato nella notte tra trappeto e balestrate non si registrano danni a persona al momento i roghi sono stati domati i vigili del fuoco stanno effettuando operazioni di bonifica delle zone interessate sono stati spenti i roghi che hanno interessato ieri pomeriggio la zona di castellammare del golfo e scopello a presidiare il territorio dove nel pomeriggio erano state evacuate 200 persone nella zona della tonnara le squadre dei vigili del fuoco dei comandi provinciali di trapani agrigento calta nissetta e mazzara del vallo complessa operazione di soccorso ed evacuazione delle persone rimaste intrappolate tra le fiamme sprigionatesi improvvisamente a monte della tonnara di scopello ieri pomeriggio che hanno immediatamente circondato tutta la località ostruendo le uniche via di sfuggita da terra vista l'impossibilità di trovare rifugio dalle fiamme all'interno della costa tutte le persone si sono riversate sulla spiaggia antistante la tonnara verso il mare per difendersi dal fuoco e dall'incendio nonostante ciò si sono subito trovate in grande difficoltà a causa dell'intenso fumo e della pilli di cenere trasportati al forte vento presente in zona non appena pervenuta la segnalazione dell'emergenza la sala operativa della capitaneria di porto di trapani ha disposto l'immediato intervento e la moto vedetta cp 719 partita dal porto di castellammare del golfo e di numerose altre imbarcazioni ai gommoni privati alcuni condipendenti militari a bordo provenienti sia dal porto di castellammare che da quello vicino in san vitolo capo insieme con la moto vedetta cp 330 da trapani in poco meno di 20 minuti tutti i mezzi intervenuti hanno raggiunto le persone in difficoltà effettuando il trasferimento da terra verso la moto vedetta cp 719 sui altri natanti coordinati e gestiti dai militari della guardia costiera diretti al porto di castellammare per sbarcare in sicurezza sani e salvi tutti i malcapitati l'evacuazione di tutta la spiaggia e di altri bagnanti nel frattempo rimasti intrappolati in alcune piccole calette della costa con il fuoco di vampante alle spalle è stata conclusa in poco più di 30 minuti dopo lì che le moto vedette sono rimaste in zona per pattugliare il litorale in cerca di eventuali altre persone in difficoltà ma fortunatamente non hanno trovato nessun altro in pericolo cambiamo argomento a palermo in piazza gli ex percettori del reddito di cittadinanza chiedono alla regione siciliana misure straordinarie sul lavoro loro sono gli ex percettori del reddito di cittadinanza si sono dati appuntamento a piazza vittorio veneto a palermo per manifestare il loro dissenso sulle restrizioni e il definitivo tramonto alla misura di sostegno che ha garantito negli scorsi anni le fasce sociali maggiormente disagiate un tema delicato che potrebbe preannunciare un autunno caldo in tutta Italia ma specialmente al sud dove i percettori sono proporzionalmente in numero più elevato a causa delle difficoltà a trovare lavoro lavoro che a detta dei manifestanti oggi dovrebbe essere garantito dalla regione siciliana con l'ultimo reddito che ho preso di luglio ho cercato sapendo che adesso ad agosto non avrei avuto più niente neanche si sa un qualcosa per i mesi successivi ho preferito comprare al discount delle scatolette queste che costano 50 centesimi di ceci, di fagioli, di lenticchie, di minestrone che sinceramente sono anche un po' immangiabili però visto che qualcuno dice che noi mangiamo anche bene noi poveri ma vorrei vedere perché non posso più andare dal mio fruttivendolo a comprare la verdura e la frutta e quindi logicamente devo mangiare così e mi devo arrangiare in questo modo che cosa devo fare? Dopo una vita di lavorare mi ritrovo qua adesso a Palermo nella mia terra ad avere questa difficoltà proprio per inserirmi nel mondo del lavoro vista anche l'età che mi ritrovo e quindi cosa fa? Lo Stato mi abbandona. Chiediamo un lavoro perché oltre 45.000 famiglie siciliane quindi 100.000 persone hanno ricevuto un messaggio in quanto l'Inps appunto si sospenderà il reddito di cittadinanza a qualcuno già a partire ad agosto altri a partire da settembre. Purtroppo in una Sicilia in cui il lavoro comunque manca però non lo chiediamo perché è un diritto per tutti avere un lavoro. Ecco voi ve lo aspettavate? In realtà sì, infatti noi manifestiamo già da oltre 12 mesi, da oltre un anno manifestiamo in maniera continua quello che appunto stride è l'atteggiamento remissivo da parte appunto del governo siciliano che non ha fatto nulla perché se è vero che insomma il reddito di cittadinanza è una misura a livello nazionale è anche vero che non è distribuita in ugual modo. Sono arrivati nuovamente gli altri sms, gli altri percettori e ovviamente l'Inps è stato molto più delicato perché comunque la Meloni ha dato quest'ordine di essere un po' più delicati all'ultimo sms. Ovviamente siamo sempre lì, hanno rimandato nuovamente la pena di morte a questa gente dove dicono tu da ora in poi sei in mezzo alla strada e non puoi fare più nulla. Noi abbiamo qui lo Stato altamente di abbandono, i servizi sociali che sono fantasma, non esistono, non possono prendere in carico tutti questi percettori. Noi oggi chiediamo all'assessorato regionale del lavoro un lavoro subito e immediato perché noi non ci fermeremo. Che sia chiaro che possiamo essere 200, che possiamo essere 20.000 noi non ci fermiamo e in utile se ne devono fare una ragione. Finché noi, questa gente, non viene tutelata al 100% o che qui a Palermo non vengano dati i servizi giusti per poter far lavorare a questa gente, noi non ci fermiamo. Allora anche un gruppo di giovani danno solidarietà ai percettori che hanno perso il reddito? Sì, assolutamente sì. Io credo che in Sicilia quello dell'eliminazione del reddito di cittadinanza sia un problema serio che riguarda tutti. Non è un caso che la maggior parte di percettori di disoccupati si trovi proprio in questa isola perché sappiamo benissimo che ha i più alti tassi di disoccupazione, che qui trovare un lavoro che sia anche in qualche modo dignitoso, che possa dare stabilità economica per il futuro è davvero complicato. Passiamo alla cronaca. Promette un posto di lavoro per il nipote in cambio di 36.000 euro. Una donna di Marineo è stata denunciata dalla Guardia di Finanza di Palermo per truffa ai danni di un'anziana e autoriciclaggio. Indagati anche tre suoi parenti. I finanziari del Comando Provinciale di Palermo hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Termini Marese una donna di Marineo per i reati di truffa e autoriciclaggio e tre suoi familiari per il reato di riciclaggio nel merito di una truffa ad un'anziana signora che avrebbe consegnato alla principale indagata circa 36.000 euro. Le indagini sono state svolte alle finanziarie della compagnia di Bagheri a seguito della querela presentata dall'anziana cittadina percettrice esclusivamente di una pensione mensile di vecchiaia. In particolare tra il mese di settembre 2021 e il mese di luglio 2022 la pensionata, a fronte delle promesse di inserire il giovane nipote disoccupato nel mondo del lavoro attraverso la partecipazione ad un progetto imprenditoriale in realtà inesistente avrebbe consegnato complessivamente 36.000 euro nelle mani della principale indagata una donna residente a Marineo che si sarebbe presentata in più occasioni presso la casa dell'anziana per ritirare il denaro sempre nelle ore in cui era da sola così da non far destare alcun sospetto le familiari della vittima e per garantire onestà del suo operato avrebbe lasciato delle finte ricevute del denaro di volta in volta ricevuto dalla vittima che in una circostanza avrebbe addirittura svincolato una polizza vita pur di consegnare quanto richiesto I passaggi di denaro sono stati ricostruiti alle fiamme gialle sulla base della documentazione detenuta dall'anziana signora e di quanto emerso degli accertamenti bancari eseguiti sui conti correnti della sospettata attraverso i quali è stato possibile anche ricomporre le successive fasi di reimpiego e occultamento di parte della somma illecita condotte per le quali la donna è stata segnalata per il reato di autoriciclaggio e tre suoi familiari per quello di riciclaggio nello specifico la donna disoccupata e priva di qualsiasi fonte di arreddito legittima dopo aver ricevuto le somme dall'anziana signora avrebbe depositato sui propri conti correnti e sulla propria carta di credito ricaricabile complessivamente oltre 14.000 euro parte dei proventi sarebbe inoltre stata trasferita a tre familiari continuiamo con la crona cooperazione antidroga a Partinico due arresti dei carabinieri sequestrati 26 kg di marijuana a Partinico due arresti dei carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio i due uomini erano già noti alle forze dell'ordine nel dettaglio personale del nucleo operativo e radiomobile è effettuato una perquisizione domiciliare a casa di uno dei due indagati in una zona limitrofa al centro abitato rinvenendo ben occultate otto buste in plastica contenenti ciascuna un chilogrammo di marijuana già essiccata nella seconda situazione i carabinieri hanno eseguito una perquisizione nelle pertinenze dell'abitazione dell'altro indagato nel centro del paese recuperando quasi 18 kg della medesima sostanza gli arrestati su disposizione della procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo sono stati ristretti presso le rispettive abitazioni in attesa dell'udienza di convalida la dogar sequestrata è stata trasmessa al laboratorio analisi sostanze superfacenti del comando provinciale di Palermo per le analisi qualitative e ponderali il giudice per le indagini preliminari ha convalidato gli arresti disponendo altresì per entrambi la posizione del braccialetto elettronico entrambi gli indagati sono risultati percettori del reddito di cittadinanza e pertanto sono state avviate le procedure per l'immediata sospensione del beneficio a casa artigiani Palermo consegnati gli attestati di riconoscimento artigiani del futuro a due aziende palermitane alla presenza di Edith Amaio assessora alle attività produttive della regione siciliana il prestigioso titolo viene assegnato da CNA Confartigianato casa artigiani e fondazione Simbola sono stati consegnati questa mattina presso la sede di casa artigiani a Palermo gli attestati di riconoscimento artigiani del futuro a due aziende palermitane alla presenza di Edith Amaio assessore alle attività produttive della regione siciliana sono qui oggi con grande piacere qui a casa artigiani a premiare Giuseppe Ciulo e Nino Parrucca che sono distinti nel corso degli anni per meriti professionali e per grandi capacità anche manageriali noi stiamo lavorando molto in questo settore abbiamo sviluppato una serie di misure che vanno nella direzione del sostegno verso il mondo artigianale abbiamo sbloccato anche i fondi di ex artigian cassa che nelle prossime settimane cominceremo ad erogare il prestigioso titolo viene assegnato da CNA Confartigianato casa artigiani e fondazione Simbola ad aggiudicarsi i riconoscimenti sono stati Nino Parrucca per l'attività legata alla produzione di ceramiche e Giuseppe Ciuro per Baiciuro laboratorio legato alla realizzazione di stampe, ricami e capi di abbigliamento di settore sicuramente è un bel riconoscimento che io gradisco moltissimo in quanto è un po' la mia storia la mia vita che ha adesso tra io e mia mamma cento anni di attività cento anni di attività non è facile averle una cosa che sicuramente fa piacere anche perché limitata a cento aziende artigiane in Italia è una cosa che ci mette in evidenza quindi fa molto piacere Soddisfatto il coordinatore regionale casa artigiani Sicilia Maurizio Pucceri che sottolinea l'importanza dell'artigianato nella società contemporanea Siamo onorati e felici di consegnare oggi questi due premi a due aziende palermitane due aziende che si sono distinte a livello nazionale ed internazionale portando quelli che sono i propri prodotti non solo nel territorio nazionale ma anche a livello internazionale Giappone, Francia, America, Russia la stessa Russia, Germania e deve essere anche un messaggio a tanti giovani che intendono intraprendere l'attività artigiana che oggi fare impresa in determinati modi si può essere conosciuti anche a livello internazionale e non soltanto a livello localistico tenendo conto di una cosa che i nostri prodotti siciliani il made in Sicily all'estero è molto molto richiesto Ultima pagina Morgan invece sul pubblico di Selinunte dopo una richiesta dalla platea di uno spettatore il video diventa virale sul web ed è subito polemica Siete stupidi? La società è una m***a state zitti avete rotto il c***o ho dei sentimenti non sono un personaggio andate a vedere Marrakesh andate a vedere Fedez Il titolo del concerto lezione era segnali di vita e di arte una serata dedicata a Franco Battiato nel parco archeologico di Selinunte nell'ambito del festival della bellezza e in bellezza si è conclusa la manifestazione con tanto di video virale e milioni di visualizzazioni sul web protagonista delle polemiche Morgan che non smette mai di far parlare di sé grazie al suo modo fuori le righe di commentare gli eventi e approcciarsi al pubblico uno spettatore grida dalla platea che sta andando fuori tema perché il cantatore milanese stava suonando al piano un brano classico e non una hit di Battiato in realtà lo spettacolo non doveva essere un susseguirsi di cover ma un racconto anche attraverso altre musiche Morgan sbotta e inveisce contro la platea che diventa essa stessa protagonista della performance poi però lo scivolone l'offesa omofoba di Morgan verso lo spettatore la grande polemica la lapidazione sul web e il giro della notizia sui giornali online e sui social Morgan si scusa dopo qualche ora non sono omofobo tutti possiamo sbagliare e io ho sbagliato continua mi sono sentito ferito nell'anima perché avevo appena dato tutto me stesso in una canzone improvvisata in quel momento meraviglioso e commovente avermi chiesto una cover di Battiato come se fosse un jukebox mi ha letteralmente ucciso resta che non giustifica nulla ciò che ho detto felice crescente direttore del parco di Selinunte si dissocia dall'accaduto con Morgan commedia dell'arte di Chiara e in effetti è stato questo una sorta di dialogo in tempo reale tra l'artista e il pubblico con attorno la riproduzione video e la polemica su altre piattaforme dove la comunicazione passa attraverso scontri verbali forti e la voglia di esprimersi di tutti si può dare il plauso a Morgan di aver creato anche se inconsapevolmente più che una lezione su Battiato una lezione sul nuovo modo di concepire l'immagine e lo spettacolo dove lo spettatore ormai troppo abituato al mondo dei social vuole decidere lui le scalette ciò che gli piace e cosa no e quando ciò non va non potendo sgrollare lo schermo urla e fa una richiesta come nei migliori delibri a Letoianni il concerto di Raff è emozionato e fatto cantare in migliaia con i suoi vecchi successi grande successo di pubblico a Letoianni per il concerto di Raff ripartito il 28 aprile a Sanremo dalla palco dell'Ariston Raff ha proseguito i suoi appuntamenti dal vivo in giro per l'Italia il cantautore ha fatto tappa anche in Sicilia a Melilli nella città Giardino sono affezionato a questi luoghi perché mi ricordano tanti bei momenti sono venuto spesso anche per così per grazie alla musica ai concerti però delle volte sono venuto di proposito con gli amici o con la famiglia la scaletta della mia casa tour 2023 di Raff ha riproposto sia alcuni tra i brani più famosi del cantautore sia canzoni più recenti come l'ultimo singolo Cherie singolo che ha segnato il ritorno di Raff in rotazione radiofonica e che ha dominato le classifiche italiane senza dimenticare la canzone cantata con Guetti pretendo un classico rivisitato che ha portato alla ribalta una grande hit del passato durante la serata acclamazione per l'artista nella riproposizione di brani come Gente di Mare Infinito Self Control è il battito animale Madonie Bike Fest il 2 e 3 settembre a Piano Battaglia c'è la festa della bicicletta due giorni ad alta quota e a stretto contatto con la natura per gli amanti della bicicletta che il 2 e 3 settembre si potranno ritrovare a Piano Battaglia per vivere le emozioni della prima edizione del Madonie Bike Fest l'evento promosso da Rifugio Marini vede la partecipazione di associazioni sportive e istituzioni che si sono ritrovate insieme per promuovere lo sport come momento di socializzazione veicolo di valori e driver di sviluppo territoriale quella trasporto e turismo è una sinergia vincente afferma il gestore di Rifugio Marini Guido Grasso si tratta di due settori che se uniti possono rappresentare un'opportunità di crescita nel pieno rispetto della sostenibilità umana e ambientale l'evento è patrocinato dalla città metropolitana di Palermo e dei comuni di Petralia Sottana Polizzi Generosa e Isnello il programma delle due giornate inizia sabato 2 settembre alle 9.30 con la passeggiata cicloturistica su strada alle 10 l'escursione in MTB e e-bike le attività per bambini suddivise in tre turni di 45 minuti ciascuno la giornata di domenica 3 settembre inizia nuovamente con la passeggiata cicloturistica su strada alle 9.30 il primo trofeo MTB Rifugio Marini diviso in tre categorie e-bike Gran Fondo e Social Ride sempre alle 9.30 l'apertura del Tapirulan e l'avvio delle attività di animazione per bambini suddivise in turni di 45 minuti ciascuno alle 14 l'evento si conclude con le premiazioni e i saluti danza musica e arti visive in uno spettacolo innovativo a luglio musicale trapanese la coreografa e danzatrice Silvia Giuffre presenta la sua nuova creazione dal titolo Croma un'opera originale che unisce danza musica ed arti visive lo spettacolo sarà in prima esecuzione assoluta nell'ambito della 75esima stagione lirica dell'ente luglio musicale trapanese e andrà in scena il 30 agosto alle 21 presso il teatro di Stefano nella cornice della Villa Margherita di Trapani basandosi sui dipinti astratti di artisti del calibro di Candischi Pollock Carla Cardi e tanti altri Silvia Giuffre ha creato una serie di coreografie che si ispirano alle forme ai colori e alle emozioni evocate dai quadri sono molto contenta di essere nuovamente ospite dell'uglio musicale trapanese e la seconda volta che vengo invitata come autrice come coreografa e come regista e questa volta mi è stata data proprio carta bianca quindi ho pensato di tirare fuori un'idea che avevo nel cassetto da tanto tempo ed è il mio amore per l'arte contemporanea a tutto tondo ho deciso di mettere insieme quindi il corpo di cinque danzatori danzatori contemporanei con la loro naturalità del movimento il loro respiro le emozioni e le simbologie che il corpo si porta dietro la musica contemporanea con la sua intensità e con una profondità che ci fa raggiungere l'infinito e i colori dei dipinti per creare una trama unica una regia che ha come filo conduttore la bellezza la suggestione l'immersione Croma è lo spettacolo che andrà in scena il 30 agosto alle ore 21 qui al teatro di Stefano alla villa e vedremo sulla scena una commistione di arti come si suol dire le videoproiezioni che ci faranno apprezzare i quadri e i dettagli di questi quadri la danza e la musica dal vivo pianoforte violoncello e musica contemporanea quindi vi invito tutti a venire a passare una serata con noi di bellezza una serata sui generis in cui stare bene insieme l'equipaggio casella siragusano si aggiudica l'ottava edizione del tinderi rally Totori Olo navigato da Rosario Terranova vince la gara dedicata alle vetture storiche L'ottava edizione del tinderi rally ha visto il trionfo dell'equipaggio casella siragusano su Skoda Fabia R5 I portacolori della CST Sport si sono imposti fin dalla prima prova speciale Gioiosa Marea e hanno mantenuto la testa della classifica vincendo tutte le otto prove speciali previste tra la sera del sabato e la giornata di domenica Al termine della gara il vantaggio sull'equipaggio patese composto dai fratelli Lomolo anche loro a bordo di una Skoda Fabia è di oltre un minuto Ad aggiudicarsi il terzo gradino del podio è l'equipaggio composto dal Favarese e Giuseppe Patti a rientro dopo nove anni di stop navigato dal messinese Domenico Salvo sul Citroen C3 Questa gara eravamo obituati a farla a novembre onestamente oggi stiamo soffrendo molto il caldo anche la macchina le gomme noi cerchiamo di stare concentrati perché come hai detto due 50 secondi sono tanti però un caldo di concentrazione potrebbe creare un piccolo guaio Nella gara riservata alle vetture storiche ad avere la meglio è stato il cerdese Totoriolo navigato per la prima volta da Rosario Terranova su una Porsche 911 Carrera RS di quarto raggruppamento preparata dall'esperto Domenico Guagliardo al secondo posto il vincitore del terzo raggruppamento sul Porsche 911 Carrera SC Giovanni Modica navigato da Francesco Lavranca a chiudere il podio la lancia delta integrale dell'uipaggio Ansorge Portero Stiamo testando questa vettura perché correrò con questa all'elba fra 15 giorni 20 giorni per cui stiamo facendo con il team Guagliardo un po' di modifiche per quanto riguarda la mia guida però al solito strade fantastiche strade bellissime e non potevamo esimerci dall'esserci questa era l'ultima notizia vi ringrazio per averci seguito vi do appuntamento alle prossime edizioni di Media News Grazie a tutti